buongiorno mi trovo nella chiesa di san nicolò comelico e scriviamo 11 febbraio 2022 strano che io al pomeriggio così bel limpido pomeriggio mi trovo in chiesa a san nicolò motivo c'è di sicuro vedo l'altare ben decorato sia il nuovo che il vecchio non è per una festa è che è standard ormai che decorano bene i nostri altari voglio ricordare questo giorno speciale per una famiglia a me molto cara si tratta della maestra Nadia Costambiedo e Gustavo che si sono uniti in matrimonio l'11 febbraio 1961 sono 61 anni in matrimonio se non è un motivo per andare in chiesa non so cosa dire comunque da qui da san nicolò di comelico nella bella chiesa la più bella chiesa della provincia di belluno mando i più cari saluti e auguri alla mia maestra e al consorte gustavo e certamente a tutta la famiglia quando venite in comelico passate sempre in questa chiesa venite sempre siete sempre benvenuti san nicolò nella chiesa questa chiesa è stata costruita anni prima della scoperta dell'america e c'è ancora non paragoniamo l'america con san nicolò no san nicolò è rimasto quello che era l'america si sta sviluppando combattendo via via non ci interessa non interessa che san nicolò è restato come era e come 61 anni fa mi trovo in questa chiesa per una preghiera per la mia maestra e il suo consorte a voi un caro caro saluto e tanti tanti auguri caro maestra maestra un volante smantier come li ha perché anche in come li ha la nostra lingua adorò per tanti secoli ormai e spero che la dura in camo io cerco da fare il possibile da trasmettere al poco sai anche scrivendo aduce vuoi entrare la famiglia anche io la grande festa un gran avvenimento da ringraziare il signor da aver avuto la fortuna per avere questo traguardo con l'augurio che potrete continuare essere sereni e soprattutto allegri come potrete essere e questo ricordò l'ampasso d'agosto verso la fine d'agosto che anche Cardonda fai una bicchierata via dal Dolomiti hanno detto suicido via algo eh tanto ruvo la maestra ben che la ruvo la sascia ma un mano che passa il tempo l'emozione carcè 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 in ultima esplosa una festa che la mia maestra sei più conti che la sobbia che era su una nuova che la dè niente da voi non staria da una tavola all'altra da scolare invece scolare e l'era mi speleca e gustavo che la sera silenzioso come la sera